bentornati su my football jersey vediamo un'altra maglia storica di un campionissimo del passato nedved questa è la prima maglia ovviamente della juventus per la stagione 2004 2005 il passato è un'altra maglia che non è un'altra maglia che non è un'altra maglia la maglia dell'ultimo pallone d'oro della juventus non poteva mancare questa è veramente molto bella fatta veramente molto bene e il costo che vedete qui sopra si commenta da solo trovate in descrizione qua sotto tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo diventa ancora più vantaggioso prima di lasciarvi alle misure io vi prego di iscrivervi al canale è un gesto che a voi non costa nulla ma che ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso a 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan ciao ciao ciao